Con il numero 21 Francesco Berlotti, con il numero 23 Piedra Fattori, con il numero 66 Francesco Piovedi, con il numero 96 Lorenzo Piovedi, con il numero 95 Alessandro Lafucci, con il numero 96 Emano Diovedi. Allenano Matteo Pelachi e Francesco Torrelli. In campo per il Bologna United, con il numero 1 Alessandro Emano, con il numero 3 Stefano Bonni Bonassi, con il numero 4 Kevin Erodani, con il numero 5 Luca Cacciari, con il numero 6 Capitano Valenzo Piovedi, con il numero 7 Sebastiano Maggio Galauri, con il numero 8 Luca Argentini, con il numero 10 Giacomo Salini, con il numero 11 Stefano Mula, con il numero 12 Gian Maria Raccarduto, con il numero 14 Matteo Tedesco, con il numero 25 Simone Piovedi, con il numero 27 Giacomo Salteverda, con il numero 96 Alba Piovedi. Allora con il numero 8 Stefano Colpovedi, con il numero 1 Stefano Colpovedi. Allora con il numero 27 Matteo, con il numero 112 Tiperi, con il numero 8 Giulio, con il numero 14 Matteo, con il numero 8 Ranieri, con il numero 18 Grigio Salteverda, con il numero 7 Siamo tutti e 8, sono da 500 noi, abbiamo una gomma. Siamo tutti e 8, sono da 500 noi, abbiamo una gomma. Siamo tutti e 8, sono da 500 noi, abbiamo una gomma. Siamo tutti e 8, sono da 500 noi, abbiamo una gomma. Siamo tutti e 8, sono da 500 noi, abbiamo una gomma. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 A te lo vediamo la battessa. Dai, ai due! Dai, ai due! Viva! Posemi dare due minuti? Non lo so d'arte, lì, ma io! Dai, ai due! 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 Grazie! 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 Grazie!